Parliamo di vini e di vigne e questo è il vigneto della tenuta Masselina sono in territorio romagnolo questo è Castel Bolognese e i vigneti che vedete attorno a me sono appunto di questa tenuta che del gruppo Cevico sono in compagnia di Marco Nannetti presidente di questo grande gruppo vitivinicolo con lui facciamo il punto della situazione del vino e dei vini in prossimità anche delle festività nataliste dove si consumeranno si spera insomma anche tanti vini in compagnia covid permettendo presidente magari facciamo due passi nelle vigne allora questa situazione ne abbiamo parlato più volte la pandemia ha creato anche qualche distorsione sul mercato contrazioni nelle vendite da un lato e a volte insomma anche qualche impennata specialmente in alcuni settori come sta andando adesso che siamo in questa fase in cui ancora insomma di incertezza da questo punto di vista in un mercato che non è solo locale ma è un mercato internazionale specialmente per grandi gruppi che si rivolgono al mondo intero. Sì beh la situazione ovviamente complessa il settore del vino produce in Italia circa 45 milioni di ettoliti e considerate che oltre la metà li esportiamo quindi è evidente che l'impatto della pandemia è stato notevole soprattutto nel canale della ristorazione la chiusura dei lockdown hanno determinato in alcuni momenti addirittura la chiusura totale e fatturati ridotti all'osso nei canali della ristorazione. Di contro abbiamo avuto fasi in cui nella GDO i consumi sono cresciuti molto sia in Italia che all'estero e dobbiamo dire che tutto sommato questi mesi di pandemia una risposta ce l'ha data che il consumatore italiano esterniero al vino è molto affezionato per cui in un modo o nell'altro i consumi di vino hanno continuato ad esistere anche a livelli abbastanza importanti tranne ovviamente quelle parti di consumo nei ristoranti nei ricevimenti e nei banchetti in quanto appunto sono stati vietati. Però al vino la gente non ha rinunciato. Resta sempre la bevanda nazionale. Ecco Marco è internazionale. Marco io vedo qua ancora dei grappoli che non sono stati distaccati, non sono stati raccolti. Tra l'altro insomma io approfitto perché in questo periodo assaggiare qualche chicco d'uva è veramente gradevole. Come mai questi chicchi che sono rimasti sulla vigna? Qui siamo a Tenuta Massellina. Tenuta Massellina per noi è il luogo in cui anche perché fare tutta agricoltura biologica noi produciamo vini di altissima gamma e nello specifico questi filari li dedichiamo alla produzione dell'Albana passito, l'Albana Romagna ad oggi passito e come tale la cernita, quindi la scelta dei grappoli è estremamente severa. Solo i grappoli migliori, i grappoli perfetti poi possono essere destinati al passito della tenuta, quindi quest'Albana passito. E siamo anche contenti che, come dire, di contribuire anche a, come dire, a farci che gli uccellini o le volpi possano mangiare un po' di uva buona anche loro. Quelli come noi che oggi hanno avuto la fortuna di fare questa passeggiata in questa splendida giornata. Vedete, insomma, qua c'è una grande vallata e si può ammirare questo vigneto che colora il territorio. Vini bianchi, foglia gialla, vini rossi, foglia rossa. Ormai siamo già alla fine perché, insomma, a dicembre stanno cadendo, quindi insomma siamo già in una fase avanzata. Quanti ettari ci sono a vigneto in questa tenuta? Allora, Tenuta Massellina sono 16 ettari a vigneto, tutto biologico, base vitine autoctoni, quindi Albana, Trebbiano, Sangiovese, poi abbiamo Pignoletto e abbiamo una frazione minore di vitigni internazionali come lo Chardonnay, il Sauvignon, il Cabernet e il Merlot. Il punto d'orgoglio oggi è difficile andarci perché è molto umido, ma è questo Albana che abbiamo rinnovato recentemente con il sistema d'allevamento a Pergoletta Romagnola, quindi un impianto a gestione completamente manuale che ci riporta anche questo al valore storico di vitigno importante come l'Albana. I mercati che sono più difficili in questo momento, magari invece quelli più recettivi, questo stravolgimento insomma anche che ha creato il Covid e quindi la pandemia, ha determinato situazioni nuove nel mercato del vino? Situazioni nuovissime e soprattutto arrivate all'improvviso. Il cambio delle abitudini è stato repentino e noi abbiamo mercati ad esempio quello statunitense dove l'effetto dei lockdown ha generato incremento delle vendite, abbiamo mercati invece come quello italiano dove complessivamente non potendo andare al ristorante il consumo è calato. La Cina improvvisamente ovviamente ha chiuso tutti i mercati e tutte le importazioni, quindi il mercato è crollato, ma per esempio la Cina adesso è la prima che ha ripreso i consumi anche in funzione di una pare risolta o quasi situazione sanitaria. Più che altro questa fase qui ci consegna la necessità di essere flessibili, di essere molto dinamici nell'affrontare le questioni e l'importanza di essere diversificati nella fase di proposta dell'offerta e diversificati anche in termini di canali, perché evidentemente soprattutto le aziende vitivinicole concentrate per la maggior parte nel canale Orica sono quelle che hanno sofferto di più, le aziende vitivinicole con una diversificazione dei mercati di riferimento, quindi magari anche molti paesi esteri e molti canali in Italia, Orica e GTO sono quelle che hanno sofferto di meno. Altro elemento è il consumatore che ovviamente in un contesto dove al vino non ha voluto rinunciare, ma problemi economici ce ne sono stati, ce ne sono e ce ne saranno, evidentemente il consumatore è ancor più attento di prima al rapporto qualità-prezzo e i vini a prezzo più alto sono ancora quelli che hanno subito di più il problema di questa pandemia. Per il vino, come per altre referenze made in Italy, a volte ci sono barriere di natura commerciale e barriere di natura fitosanitaria. A volte si usa l'uno o l'altra anche per una questione di tutela di un prodotto all'interno di altri confini. Quali sono i paesi che sono più ostici da questo punto di vista, magari adducendo scuse di carattere sanitario, ma in realtà ci sono complicazioni di carattere commerciale? Le barriere occulte, perché così si chiamano, sono tantissime. Per fortuna a livello europeo l'armonizzazione si è trovate e a livello comunitario riusciamo a gestirla naturalmente in maniera serena. Abbiamo molti, non sono problemi perché poi si affrontano e si risolvono, ma molti ostacoli da affrontare in praticamente tutti i paesi. Ogni paese ne ha uno. Voi per una lista di ingredienti, vuoi per un principio attivo in dosi minore rispetto all'altro, vuoi per una gestione diversa degli imballaggi di un prodotto, ma tutto è finalizzato ovviamente a proteggere le produzioni interne piuttosto che agevolare le importazioni da terzi. Ma questo fa parte di un export che è vero, è importantissimo, è fondamentale e lo confermiamo, è strategico, ma l'export necessita anche forti investimenti perché necessita conoscenza dei mercati, necessita personale qualificato, necessita contatti continui coi paesi per capire appunto cosa sta cambiando giorno per giorno. Contatti fisici che ultimamente sono rallentati insomma per il problema che abbiamo detto più volte. Quali sono le tendenze dei consumatori negli ultimi anni nell'approccio col vino? Bianchi, rosati, rossi, gradazioni più o meno elevate. Qual è la vostra percezione anche in base al prodotto romagnolo, emiliano romagnolo che voi producete? Intanto sì, non l'abbiamo detto prima, ma evidentemente tutti lo sanno, l'online è un altro segmento canale che in questa fase è esploso improvvisamente attorno al vino necessariamente perché le consegne a domicilio sono aumentate tutte. Sui consumi vediamo che nei paesi in cui il vino è meno conosciuto la tendenza è verso vini paradossalmente più alcolici ma molto fruttati e molto gradevoli all'olfatto e al gusto, quindi alcolici anche non troppo asciutti o secchi. Lo vediamo in Cina, lo vediamo molto anche in Giappone e in parte anche negli Stati Uniti. Nei paesi più evoluti, evoluti da un punto di vista della conoscenza del prodotto vino, dell'abitudine al vino, la gradazione alcolica tende ad essere gradita minore, più bassa e si cominciano davvero ad apprezzare gli elementi che caratterizzano un vino dall'altro, ivi compresa anche l'acidità o il tannino più ruvido, che sono elementi a un consumatore non abituato, magari che possano apparire di gradevoli e invece a un consumatore un po' più abituato e acculturato da un punto di vista enologico invece diventano di gradimento. Registriamo che però torna il vino sia in Italia che all'estero, l'interesse a un prodotto che non è soltanto alimentare ma è di valorizzazione del territorio e di valorizzazione della cultura dei territori in cui il vino viene prodotto è sempre più elevato e questo ci dà molta speranza per il futuro anche in un'ottica di enoturismo. Bene Marco, lasciamo questo bel territorio, questo bel vigneto perché abbiamo parlato tanto di vino in vigna, adesso magari vediamo queste bottiglie, cosa c'è di nuovo ma soprattutto in prospettiva di queste festività che cosa si può proporre, anche qualche abbinamento, magari con un enologo. Magari con il nostro enologo Matteo, certo. Grazie a tutti.